Pochi casi nella storia dello sport hanno creato un così stretto e immediato sillogismo fra una specialità sportiva e un suo protagonista. Muhammad Ali è la box, Pelé è il calcio, Gio di Maggio è il baseball e francamente faccio fatica a ricordarne altri. Michael Jordan è il basket indissolubilmente, un campione capace di ascendere alla beatificazione sportiva e diventare già di sé un'icona, un merchandising, un marchio vivente. La sagoma stilizzata di Jordan nell'atto di fare una delle sue schiacciate che lo hanno reso leggendario è uno dei simboli più conosciuti del merchandising e dell'avviamento sportivo. Non stiamo lì ovviamente a fare gli ascetti dello sport, è chiaro che si tratta di una grande operazione commerciale seguita alla grande carriera di un grande sportivo, forse il 23 più famoso della storia dell'umanità sportiva e non.